Dio mio cosa sto guardando? Già nella chat scrivono ripose in pace Bioware, ripose in pace Dragon Age. Si generalmente come livello grafico nulla da dire ma a livello gameplay mi sembra il classico action rpg in stile final fantasy dove si facciamo le azioni ma il termine rpg e le tattiche tutto sono ridotte all'osso sinceramente non mi ha convinto poi anche lì ci sono state le scelte per quanto riguarda da fare con i personaggi che possono aumentare il livello di fiducia o diminuire dei personaggi del nostro party a meno così mi sembra di aver capito però per il resto devo essere sincero per il resto non mi ha convinto per nulla veramente mi ha lasciato con la mano in bocca anche i combattimenti sono stati molto anonimi c'è stato uno sconto col boss che era un boss identico ai nemici normali se non un po più grosso e con la barra della vita un po più grossa ovviamente si carine le tattiche puoi rallentare un attimo l'azione scegli un'abilità ma pensavo anche un po di tattica con i personaggi le parti invece sono solo lì come statuette che vi danno una mano sì e no durante gli scontri e classico tipo come il fan of fantasy uscito di square enix dove abbiamo dietro gli altri personaggi e basta cioè sono lì come giusto per far da tampone praticamente per il resto non servono a una mazza sinceramente non mi ha convinto e adesso c'è un po di dubbi anche sull'altro gioco dalla serie che io amo mass effect certo ovviamente uno nei commenti mi da mi dirà sì ma marco ma non puoi valutare un gioco senza averlo provato con mano certo giustamente avete ragione però mi dispiace chi mi piace oppure no questa è la mia opinione e a me sinceramente come presentazione non mi ha convinto poi un'altra cosa ho notato una cosa a meno o mi è sfuggita o magari non l'hanno annunciata ma la data di uscita del gioco non è stata nemmeno detta hanno finito col gameplay l'hanno finito così e punto e basta cioè cavolo di presentazione è cavolo di presentazione ecco cioè questa qui non è una presentazione degna di di dragon age cioè no mi dispiace ma non mi ha convinto per nulla per nulla proprio ma lasciato con l'ammaro in bocca veramente veramente di sotto di sotto io ancora avevo visto i primi mass effect i primi dragon age mi hanno subito innamorato qui invece non mi ha detto esattamente nulla nulla proprio adesso sto guardando un attimino per vedere se ho saltato la data di uscita per vedere se l'hanno annunciata ma per il momento proprio 0 0 0 a meno io qua non l'ho vista coming a fine 2024 ok scusate infatti l'ho saltata a fine 2024 uscirà dragon age valing ward ma buh non mi ha convinto per il momento non mi ha convinto spero di vedere altri gameplay per avere un'idea maggiore sulla varietà dei nemici magari qualcosa in più di gameplay per il fatto di tattiche via dicendo ma per il momento mi sembra il solito action rpg senza anima praticamente non so ragazzi fatemi sapere voi nei commenti la vostra opinione personale su dragon age del vani guarda se l'avete visto se vi ha lasciato che vuole la mano in bocca pure no e diete noi ci vediamo per le prossime notizie ci sarà anche squadra enix via dicendo penso squadra enix quando la fanno la presentazione ha il 12 quindi domani praticamente noi la seguiremo la commenteremo praticamente la commenterò dal vivo mentre la sto guardando e niente poche parole iscrivetevi al canale lasciate un like un commento passate nei nostri negozi consigliati game start e nerd gravity se volete fare una donazione e adottare un cane cane di citigo e noi ci vediamo alla prossima siamo un po' delusi qua nella redazione un pochettino comunque alla prossima ciao